Tavuglia sta vivendo una situazione molto delicata dal punto di vista sanitario, con un considerevole incremento di contagi nelle ultime settimane. 88 positivi su una popolazione di meno di 8.000 abitanti e 151 persone in quarantena. Per frenare l'ondata Covid nel borgo della provincia di Pesaro Urbino è arrivato il camper vaccinale dell'Azur, che ha registrato una notevole affluenza. Considerando che siamo tra i comuni con una percentuale media un po' bassa di vaccinati, è un buon segnale. Devo dire che la formula del camper vaccinale funziona molto, perché arriva un servizio vicino alle case, quindi le persone non devono fare tanta strada per avvicinarsi alla vaccinazione e questa cosa dà un senso di servizio e anche un po' di sicurezza, perché sei comunque vicino alle famiglie, vicino a casa, quindi è un'ottima idea, devo dire, un'ottima iniziativa. C'è stato un aumento di contagi a Tavuglia? Come la situazione è un po' preoccupata? Sì, mi dispiace, perché stiamo un po' vivendo, anche se, devo dire, non è la stessa cosa, perché oggi stiamo vivendo comunque, quindi il primo lockdown, se ci ricordiamo, noi a Tavuglia abbiamo avuto, proprio all'inizio, così come la provincia di Rimini, tanti contagi. Però all'epoca eravamo poi costretti in casa. Adesso invece, grazie alla vaccinazione, siamo riusciti, non in quest'ultimo anno, a vivere nella quasi normalità. E questo è un dato importantissimo per una società. In questo momento Tavuglia ha circa 80 contagi. Adesso ogni giorno chiaramente il numero cambia, perché grazie a Dio ci sono molti guariti, però 80 contagi sono tanti, sono come la prima ondata. Sono tantissimi e spero che non si debba arrivare alle colorazioni, perché altrimenti noi saremmo, con i dati, ogni 100.000 abitanti su 7 giorni, siamo già oltre le soglie di colori più intensi, quindi spero proprio che questo non avverrà.